così dai su su mettila sul contrario no ma adesso di sopra la tira il contrario scusami eh la fai girare indietro di sopra e la fai passare sopra no no non viene fuori il problema è che se troviamo la il mago gargamella in qualche buco che è caduto che è lì io non mi giro che mi spavento sai com'è come è una notte ti ricordi quando poi sono rimasto sulla seta piena di ghiaccio adesso ti chiede la garanzia il nome ricordo che sembra se ti chiami gargalela sei rovinato poi junior si lascia lo sta intanto che è così lascia lo stare quando prende il cavo della corrente che tagli anche quello ce l'ha fatta almeno vita da parlare ma va quello il bello puoi dir giuro porta incazzarsi a bestemmiare pure il dito vuol dire che potevo incazzare pure il piegani devi mettere il cacciavite dove c'è il taglio dei due vecchi vedi che si è girato non sa neanche dov'è lui ce l'abbiamo fatta dieci minuti di video per niente picchialo forte il mago gargamela però non il coso mi portavamo giù due cellophane chiudeva il ponticello e stava dentro l'acqua tra un po' arriva che vengono le cucine regalo cucina a chi viene a prendere regalo scopo chi la recupera nel fiume io ho i noccioli porca miseria che putrella questi noccioli una roba bestiale è una roba anche quando andiamo su dal max è un disastro e gli danno delirio mamma mia e adesso sta già incominciando adesso fra un po' adesso quando arrivo al campo basta sono cotto putrella leva ora Grazie a tutti